ciao a tutti e bentornati sul canale benvenuti in questo nuovo video è appena passato il corriere a portarmi il pacco di Avon e ho pensato di girarvi come primo video il video del catalogo della prossima campagna ovvero campagna 16 che partirà domani primo maggio per terminare il 31 di maggio in copertina abbiamo subito i rossetti che cambiano di formulazione e packaging e sono quei rossetti che si chiamano ultra matt e ultra creamy apriamo subito il catalogo per scoprire tutte le novità e super offerte che ci riserva questa campagna come ogni catalogo iniziamo con l'offerta esclusiva di campagna ovvero per ogni prodotto acquistato da questo catalogo potete avere questo set a soli 17 euro e 99 fa parte di questo set le perre di terra solare disponibili in quattro tonalità che potete scegliere e dal profumo incandescence con note di frizzante bergamotto rosa e morbido muschio la lozione corpo softening mosturale salmon care è un prodotto in edizione speciale per insieme contro il tumore al seno un'idratazione cura con macadamia a soli 6 euro e 99 il 750 ml per ogni lozione per il corpo che acquisti doneremo 2 euro e 25 all'organizzazione per la lotta contro il tumore al seno ecco qua una piccola anticipazione sui rossetti che cambiano nuova formula con una miscela segreta di oli per donarti il colore senza seccare le labbra 40 tonalità coprenti ad alto impatto con finitura matt e cremosa e un nuovo stilo di precisione per un'applicazione impeccabile per ogni rossetto ultra primi e ultra matt acquistati potrete avere la matita contorno labbra glimmer stick a soli 2 euro e 99 potrete scegliere tra diverse tonalità ed ecco finalmente i rossetti questi sono gli ultra matt 5 euro e 99 l'uno con un spf 15 stessa cosa per quanto riguarda gli rossetti ultra crimi un'altra novità sempre di makeup è il mascara true super shock max volume waterproof 5 euro e 99 e ha un originale scovolino elicosale per raggiungere le ciglia e gli angoli e avvolgere accuratamente anche le ciglia inferiori dalle radici alle punte un complesso volumizzante per idratare e valorizzare le ciglia e una formula waterproof acquistando questo mascara potrete avere a soli 2 euro e 99 la matita the big intense call in colorazione nera due eyeliner a soli 11 euro e 99 acquistati da pagina 16 e 17 uguali o diversi potete scegliere appunto tra il diverse liner oppure tra le matite the big gel paint pencil nelle diverse tonalità due ombretti a scelta a 15 euro e 99 a pagina 18 e 19 potete scegliere tra i quad di ombretti di avontrù oppure il duo brillante show glow mark due matite per sopracciglia scelta a 9 euro tra il duo per sopracciglia illuminante oppure le matite sopracciglia glimmer stick due mascara scelta a 13 euro e 90 potete scegliere tra l'unlimited nero o marrone oppure le euphoric nero marrone e blu della linea power stay in offerta set fondotinta più correttore a 16 euro e 99 vi lascio nelle schede il video dove lo applichiamo insieme e dove ve lo recensisco sempre della linea power stay tutti i prodotti per gli occhi e per le labbra e per quanto riguarda i mascara con effetti speciali due a scelta a 6 euro e 90 i gel shine insieme al loro top coat a soli 6 euro e 99 potrete scegliere tra nuove tonalità dei gel shine ma anche tutte le altre disponibili uno smalto pro color più il top coat a soli 5 euro e 90 tutto l'occorrente per una manicure fai da te a casa ritorniamo alla base viso 2 a 14 euro e 90 per quanto riguarda i fondotinta cremosi finiture in polvere sia nella finitura radiosa ma anche nella finitura matte quattro step ideali per la pelle grassa con primer correttore fondotinta eterna stessa cosa per quanto riguarda la pelle secca e infine anche la pelle spenta due matite glimmer stick contorno occhi a soli 7 euro e 90 e tutti gli altri prodotti per quanto riguarda il make up degli occhi e delle sopracciglia passiamo alle labbra due a scelta a 7 euro e 90 per quanto riguarda i lip gloss glace wear di avon tutti i prodotti per quanto riguarda le labbra come ad esempio la tinta labbra loaded avon 5 colorazione a scelta 6 euro e 90 l'uno tutti i pennelli e abbiamo una novità per quanto riguarda la pulizia dei pennelli ovvero l'accessorio pieghevole per pulizia pennelli da trucco a 5 euro e 99 comodo anche da portare sempre con sé tutti i prodotti per ricreare un look metallic e poi passiamo alla linea color trend che è quella linea più economica e giovanile di avon come ad esempio il mascara multi benefit crash color trend 4 euro e 99 lunghezza curvatura volume e definizione tutti i prodotti color trend per quanto riguarda le labbra e poi passare a tutto quello che riguarda la base del viso ad esempio il fondotinta liquido real matte color trend 5 euro e 99 diverse colorazioni disponibili copertura completa liquido ed è waterproof vi lascio qua nelle schede la recensione con applicazione la linea e new per quanto riguarda il make up e anche in questa campagna ci sarà la possibilità di confezionare i propri regali acquistando due confezioni la confezione media a soli 1 euro e 50 o la confezione piccola solo 1 euro ed ecco alcune idee regalo per lei e per lui e per lui ad esempio abbiamo avon segno profumo più deodorante con vaporizzatore a soli 20 euro e 99 insieme al sacchetto stessa cosa per quanto riguarda il fireway glamour con la sua lozione a soli 18 euro e 99 ci sono due kit anche per quanto riguarda la collezione primaverile di avon nel primo kit c'è la palette più il sacchetto a soli 18 euro e 99 mentre nel secondo kit mascara più matita labbra twist and play a soli 13 euro e 99 insieme al sacchetto il kit mission che comprende una crema contorno occhi e labbra più il suo siero 109 euro insieme al sacchetto e stessa cosa anche per quanto riguarda la linea distilleri crema viso da giorno e crema da notte a 32 euro tra le idee regalo c'è anche una nuova novità per quanto riguarda la linea e incanto esce la linea e incanto spontaneus spero di averlo pronunciato bene in questa linea ci saranno due kit dedicati il primo c'è la lozione corpo più il profumo 17 euro e 99 insieme al sacchetto mentre il secondo kit abbiamo lo spray per il corpo più la lozione corpo illuminante 10 euro e 99 insieme al sacchetto tanti bijoux idee regalo e poi passiamo alla cura del corpo iniziando con i solari potrei acquistare l'acceleratore abbronzatura 3 euro e 99 per ogni prodotto acquistato da pagina 78 a 83 abbiamo le protezioni corpo per quanto riguarda la pelle sensibile e la pelle dei bambini protezioni corpo 15 30 e 50 gli abbronzanti ma anche i dopo sole per ogni igienizzante acquistato a pagina 84 potrete avere il detergente igienizzante mani skin defense a soli 1 euro e 99 mentre le creme mani avoncare a 1 euro e 99 due prodotti a scelta 7 euro e 99 per quanto riguarda le lozioni per il corpo e le creme multiuso di tutte le tipologie della linea avoncare avoncare derma ha tre kit che comprendono una lozione corpo più una crema mani a soli 6 euro e 99 per i bimbi c'è una novità oltre a frozen e oltre a natural kids esce la linea con unicorn fantasy con due gel doccia più un sapone mani e uno spray per il corpo a soli 8 euro e 99 due prodotti a scelta 3 euro e 90 e fanno parte i deodoranti roll on della linea and out sia per lui che per lei i bubble bath sono in offerta 2 a 9 euro per quanto riguarda le confezioni da un litro le fragranze spray 100 ml 2 a 5 euro e esce una nuova collezione che si chiama la mango bay e nel kit ci sarà il gel doccia mango bay 500 ml della linea avon sensi più la fragranza spray a soli 4 euro e 99 un altro kit di avon sens che l'ocean search insieme al sapone mani pur a soli 4 euro e 99 della linea avon works abbiamo una promozione sui prodotti per gli inestetismi due a soli 16 euro la linea food works escono come novità i nuovi accessori per la pedicure e un set è quella l'ananas e t3 all'interno ci sarà l'esfoliante più il siero idratante piedi più lo spray a 7 euro e 50 e una novità sono le calze idratanti all'ananas e t3 a soli 4 euro e 99 passiamo ai capelli con la linea advanced technique due sieri a scelta a soli 7 euro un'altra promozione su shampoo più balsamo a 6 euro e 50 lo shampoo sarà da 400 ml mentre il balsamo da 250 ritornano i prodotti all'olio di argan l'olio trattante absolute nourish che è all'olio di argan e cocco mentre lo spray bifasco trattante olio di argan e marula lo troverete a 5 euro e 51 le tinte per capelli e anche le spazzole passiamo alle idee per lui abbiamo diverse fragranze in offerta e una novità è il full speed gamer un profumo con note di pompelmo rabarbaro olio di paciuli indonesiano 13 euro e 99 il 75 ml altri full speed disponibili e uno anche in set full speed classico più il deodorante roll on 15 euro e 99 altri profumi in offerta ma anche detergente corpo e capelli balsamo dopo barba e le acque di colonie passiamo alla casa con tutti i profumatori per l'ambiente e poi passiamo a i pigiami sia di avon ma anche della linea cotonella sia per lei che per lui passando all'intimo cotonella con diversi set novità la linea purity sia per lei che per lui sempre marchiato cotonella e i bijoux questo bracciale lo troveremo a file catalogo perché per ogni fragranza tta acquistato potrete avere questo bracciale ma non vi anticipo nulla lo troverete a fine catalogo orologi e borse ma anche tutto quello per quanto riguarda lo sport passiamo ai saldi di mezza stagione iniziando con la linea body illusion ma anche molti bijoux borse e sciarpe e anche molte idee outfit diversi outfit per quanto riguarda cotonella e poi abbiamo la linea sprint per quanto riguarda i costumi per lei e per lui gli orologi e completi letto asciugamani tende cuscini e tovaglie ultima opportunità di acquisto abbiamo la sezione outlet di diversi prodotti che purtroppo non saranno presenti in catalogo ma sono con ottimi sconti e ritorniamo alla cura della pelle con le protezioni solari della linea enew e una delle avon più plus promozioni e dedicata ai contorno occhi il primo è il duo gel crema antiocchiaie più due gel crema per contorno occhi della linea lifting a soli 32 euro e 99 scegli il tuo mini kit enew a 9 euro e 99 per ogni prodotto acquistato da pagina 170 a 179 potrete scegliere tra le diverse linee di enew ad esempio la ultimate 40 55 anni la reversa di 30 45 e la plati con 50 c della linea new platinum abbiamo la crema viso giorno e notte stessa cosa per la linea enew ultimate sempre della linea in ultime siero più crema notte oro della reversalis crema giorno e crema notte della linea enew m texture abbiamo i dischetti esfoliante più la crema da giorno della linea enew anti wrinkles i due sieri e per finire abbiamo diversi prodotti della linea enew sia per la detersione ma anche sieri e creme la linea dat è adatto per la donna in menopausa e poi passiamo alla linea ultra effect per quanto riguarda la matt abbiamo un nuovo prodotto ovvero l'acqua micellare maxi formato una nuova acqua micellare a effetto matt per pelli miste e grasse 400 ml a soli 5 euro e 99 due kit per quanto riguarda la linea enew il primo è per pelle normale e secca abbiamo l'olio viso più la crema a soli 11 euro e 99 mentre per pelli normali abbiamo la bb cream più la crema illuminante a soli 11 euro e 99 l'acqua micellare con olio più un tinta power stay nella colorazione persistent pink 11 euro e 99 mentre lo struccante bifassico più l'ombretto in crema a soli 8 euro e 99 l'ombretto in crema è il forever bronze passiamo alla linea clear skin che la linea dedicata a pelli giovani con imperfezioni abbiamo un set in offerta ovvero i dischetti per imperfezioni più la bb cream più lo stick correttore anti imperfezioni a soli 10 euro e 99 la linea la cannabis sativa che è un antiossidante per eccellenza torniamo alle fraganze con le fraganze the artist 25 euro il 50 ml ritorno a fare way royal che è uscito nella scorsa campagna profumo più lozione corpo più spray da borsetta 19 euro e 99 due nuove fraganze sono la letty shine che è un floreale e fruttata con accordi verdi acquatici note di gersomino e una base di legni biondi questo sarà in set insieme a un detergente schiumogeno a 14 euro e 99 un altro profumo novità con note di ribes nero pesca e sfumature muschiate è keep it così insieme al suo detergente sfogliante per il corpo a 14 euro e 99 le acque di colonia e le lozione corpo saranno due a scelta a soli 7 euro delle varie fraganze di amon tanti altri profumi disponibili in offerta come l'achimi per lei a 19 euro maxima a 25 luminata a 16 euro e 99 mentre attraverso i rar li troverete a 14 euro e 99 per story e fare way classico a 16 euro e 99 e un'altra offerta avon più plus sono due profumi fare way rebel più un fare way rebel ed iva a 36 euro e 99 ed ecco le novità cambiano di packaging i today tomorrow e always sia per lei che per lui e acquistando uno di questi profumi potrete abbinarli al bracciale e pagare questo set solo 22 euro e 99 il primo è il profumo per lui ed è il today tomorrow always per lui abbiamo un profumo con neroli fiore d'arancia vetiver e potete anche acquistare il detergente corpo e capelli della stessa profumazione a 3 euro e 50 always per lei all'interno ha neroli rosa calda e legno di sandalo insieme al bracciale a 22 euro e 99 mentre tomorrow ha note di neroli violetta africana e paciuli e infine today per lei neroli e legno di sandalo e l'ultimo profumo novità è this is love all'interno ha anguria petali di gersomino e muschio questi profumi che vi ho fatto vedere sia per lei che per lui insieme al bracciale 22 euro e 99 come vedete è un bracciale con ciondolo il segno dell'infinito bene ragazze questo era tutto per quanto riguarda il catalogo di campagna 16 di amon fatemi sapere se acquisterete qualcosa da questa campagna e vi ricordo se non avete una presentatrice vicino a voi potete acquistare tramite il mio amon shop vi lascio il link nell'info box potete comodamente comprare da casa e vi arriva tutto tramite corriere sempre nell'info box trovate il link del mio instagram seguitemi anche lì li posto foto post e storico quotidianamente e se non lo siete ancora iscrivetevi al canale e azionate la campanella così da non perdere nessuno dei miei video e se vi è piaciuto questo video lasciate un bel pollice in su per sostenere questo canale vi mando un grande bacio e ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao